Il Parlamento ha confermato che le elezioni amministrative si terranno il 27 marzo, come indicato dal premier Najib Mikati, e questa per il Libano oggi è l'unica buona notizia, perché per il resto il paese sta scivolando verso quella che potrebbe diventare una nuova guerra civile. Giovedì la protesta organizzata dai partiti sciiti, Esbolla e Damal, contro il giudice che sta indagando sull'esplosione al porto di Beirut, si è trasformata in una guerriglia durata alcune ore, con i miliziani sciiti che, decisi a compiere una spedizione punitiva nel quartiere cristiano di Ain Remmane, sono stati respinti dai cecchini del partito maronita. Il bilancio è stato di 7 morti e 32 feriti. Oggi il leader di Esbolla, Hassan Nasrallah, ha avvisato il capo del partito cristiano «abbiamo sempre protetto i cristiani in Libano ed in Siria», ha detto Nasrallah, in un discorso televisivo, ricordando poi, minaccioso, che il suo partito ha a disposizione 100.000 uomini armati e ben addestrati, pronti a combattere.